ciao a tutti oggi è venerdì primo settembre 2023 allora siamo con la veronica qui il mio cane che adesso abbairà minimo e stiamo raccogliendo l'uva abbiamo già raccolto un filare di rossa che era l'ambrusco era il primo spero che riusciate a vedere tutte le cassette fino in fondo adesso stiamo andando avanti la bianca e bella matura si vede anche buona la rossa è quasi pronta anche se un filino in anticipo però io sempre vuole dei cinghiali abbiamo montato il recinto però io sempre vuole che me lo sfondano funziona funziona bene nel senso due anni che lo usiamo sono mai entrati però preferisco raccoglierla appena appena pronta perché non voglio rischiare che entrano i cinghiali perché se se riescono a entrare in una notte mangiano tutto e allora con la veronica pian pianino abbiamo cominciato oggi e voleva far vedere un po come si vendemmi è molto semplice però giusto per farvi capire allora l'ideale tenere sempre la noi usiamo queste cassette qui queste cassette gialle qui che ci usavano per i pomodori una volta questi qua sono le aveva una ditta che si chiamano dolfi qui dalle nostre zone e dove noi mettiamo l'uva innanzitutto ci vogliono delle forbici valide nel senso più sono buone meglio si fa io uso queste cose sono quelle da chiuso a potà la veronica ne un paio simili e che devono tagliare bene perché perché quando si vendemmia capita di trovare dei grappoli tutti attaccati allora si taglia il traccio e poi si va sopra la cassetta e si fa scendere allora l'importante è sempre togliere le foglie non farà mandare le foglie poi un'altra cosa importante è quando si trovano dei grappoli che hanno gli acini secchi come questo che sono stati intaccati dalla perno rospora si tolgono si lascia solamente il grano cioè l'uva buona diciamo non il grano secco un'altra cosa bisogna far sempre attenzione a non tagliare i tralci che verranno utilizzati l'anno prossimo quindi tagliate cioè guardate sempre dove sono posizionati quelli legati e poi andate a raccogliere l'uva e se 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 è molto attaccata vi abbassate abbassate in ginocchio come siete più comodi la raccogliete e cercate di tenere la cassetta sotto perché spesso se è molto matura si sgana con facilità quindi bisogna far sempre attenzione a non tirare troppo perché è più l'uva che che va in terra dopo di quella che si raccoglie almeno mi hanno insegnato così io quando ero ragazzo avevo 15 16 anni andavo a vendemmiare come come lavoro estivo e allora gli anziani del tempo mi hanno insegnato un po fare così tenere sempre la cassetta sotto non tirare mai troppo perché quando si tira si tendono si tendono vedete a sgranare e quindi bisogna andare pianino se poi è molto matura bisogna fare attenzione e andare con calma chiaramente perché se no si si perde un sacco d'uovo quindi tagliamo tagliate sempre vicino vicino il piccolo dove parte il tutto e poi se dovete tagliare un qualche a ramo che non è un capofrutto lo tagliate poi potete andare sopra la cassetta e allora lì sì che potete con calma andare a dividere un po il tutto così come abbiamo fatto quindi niente erba non andiamo intaccare mai i capofrutti e le cassette non fatele troppo piene perché se no dopo quando si vanno a sovrapporre si rischia di schiacciare l'uva e poi con calma sempre quando c'è questo uva secca qua via questa qua è malvasia quella di prima era un po più grande questa qua è più piccola per vedere se è matura si potrebbe col densimetro misurare la densità io non l'ho mai fatto però certi certi so che lo fanno la schiacciano poi misurano la densità del mosto e da lì riescono a capire se è matura o no comunque basta assaggiarla se la trovate dolce è matura cercate sempre di vendemmiare in due perché chiaramente si riesce a vendemmiare meglio perché dalla parte opporto sennò bisogna allungare le braccia e si fa si fa fatica e si vendemmia bene chiaramente qui perché è stata effettuata un paio di volte la potatura verde quindi le viti sono belle arreggiate altrimenti se avete troppo non avete effettuata vi troverete con tutti i rami davanti e allora lì occorre più tempo più calma l'ideale è pulirla prima in modo che così riesce a maturare e poi in fase di raccolta si fa meno fatica si hanno meno problemi e si trova l'uva matura io una volta che ho fatto un pezzo mi allontano e guardo di averla raccolta tutta perché da vicino può succedere che scappa qualche grappolo però pian pianino uno li va a raccogliere eccetera noi qui dopo li portiamo su con la caretta e col tratto li portiamo in cantina e domani se riusciamo a finire facciamo se riusciamo andiamo a mostrare tutto con la mostratrice elettrica andiamo a mettere il mostro nel tiro se riesco domani e metto in coda questo video anche un pezzo del video del mostro di come effettuare come effettuiamo la parte di pigiatura con la mostratrice elettrica adesso dopo vi facciamo vedere quando abbiamo finito tutto vi farò un piccolo video vi facciamo vedere tutta l'uva nelle cassette così vedete un po quanta ne è venuta comunque bella sia la bianca sia la rossa questa qua è malvasia questo è moscato questa questa parte qua è moscato rimane piuttosto verde ma è matura questa qua non lo so che varietà sia ma è bella anche questa questa qua fa i grappoli più lunghi e niente ci riaggiorniamo con con il riepilogo del di tutte le cassette che abbiamo raccolto ciao allora oggi è il 3 settembre è domenica abbiamo finito di vendemmiare e alla fine abbiamo raccolto 60 cassette di queste quindi sono da una ventina di chili quindi siamo sui 12 quintali c'è della bianca e poi ci abbiamo la rossa non è proprio matura 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 al 200 per cento però come dicevo abbiamo preferito raccogliere la prima che entra sui cinghiali anche se abbiamo il recinto però io sempre paura che entrano perché se lo sfondano in una notte mangiano tutto tutta l'uva del vigneto via quindi su 9 filari da 50 metri 3 di 3 filari di bianca e 6 di rossa lambrusco e altre varietà di rossa e moscato e malvasia di bianca e abbiamo raccolto questa qua circa 12 quintali adesso oggi pomeriggio con questa con questa macchina qui la mostratrice adesso la puliamo montiamo il carter di protezione eccetera e procediamo con la mostra tu con con l'appiggiatura via mostratura è un po un termine dialettale allora come funziona e dopo ve la faccio vedere magari smontata si butta lua qui questa cocca la butta dentro dentro c'è un altro tipo un'altra cocca però con dei piatti che gira gira in tondo e poi alle parti c'è un diciamo una griglia con dei fori tondi dove i grappoli sbattono contro il mosto scende ed esce da questo da questo foro qua che adesso è tappato questo foro qua dopo viene collegato questo tubo e la pressione la manda nel t nella tina nella tina in vetro ragina che vi faccio vedere qua si apre dopo vi faccio che la faccio vedere smontata quando la laviamo e questo qua il tino latina per dove mettiamo il mosto questa qua è ovale e viene utilizzata solamente per adesso l'abbiamo abbiamo dato un co una pulita e adesso non so da quanti quintali sia ma sarà di vino sa credo che ci stanno sei o sette quintali di vino poi chiaramente di vino poi ci sono le bucce credo dovrebbe starci tutta lì questo e poi segniamo il livello di dove arriviamo questo qua livello dell'anno scorso in modo che quando mostriamo segniamo il livello poi vediamo quanto 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 sale dopo nella fermentazione perché dopo una volta messo il mosto dentro la tina va lasciato una settimana fermentare che si creano diciamo dei lieviti noi non mettiamo lievito lo lasciamo fare naturalmente dopo c'è una fermentazione che converte di zuccheri in alcol e poi c'è un aumento dopo si divide la parte liquida scende giù e la parte la parte degli acini sale su e poi dopo da questo rubinetto vengono dopo una settimana togliamo togliamo il vino diciamo che viene poi viene pulito con un setaccio in modo che dopo lo pompiamo in un'altra tina questa tonda che ha il coperchio con la camera d'aria che viene gonfiata e la tiene tra virgoletta sotto vuoto con uno sfiato che dopo quando fermenta esce un po e sia un po di gas e questa qui latina ovale volevo farvela vedere adesso vi dopo vi faccio vedere questa tina qua con dentro il mosto e faccio vedere il dettaglio della pigiatrice quando la puliamo che abbiamo finito il tutto non vi faccio vedere il processo di pigiatura perché fa un rumore terribile e non riuscirei a parlare non si sentirebbe nulla quindi l'uvo l'avete vista avete visto la pigiatrice queste latina e poi vi faccio vedere il lavoro finito e dettaglio ok allora siamo qui con la veronica abbiamo mostrato abbiamo pigiato e voglio far vedere la mostatrice la pigiatrice allora chiamiamo un mostatore in dialetto allora è in pratica come funziona ha un motore monofase questo qua un trifase convertito monofase con condensatore con l'albero con delle cinghie delle pulegge che fanno girare adesso vi faccio vedere la cocchia sotto che spinge che è questa che è quella che spinge il mosto nel tino e poi c'è questa catena qui in alto dove c'è questa opinione è quella cocchia che fa entrare l'uva dentro e queste in mezzo sono questi questi piatti che servono per per fare in modo che i grappoli sbattendo qua contro il si rompono ed escono il diciamo la parte liquida e gli acini vanno nella parte sotto mentre i sgraspi escono da dietro vengono buttati fuori in questa parte da sopra c'è quella lamiera lì e qui si mette una cassetta dove si recuperano i raspi e poi questa qui la cocchia che spinge dentro che spinge dentro l'uva adesso l'abbiamo penalata c'è un po d'acqua l'uva viene la cassetta viene ribaltata qui l'uva entra 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 attraverso questa cocca dentro poi questi piatti questa elica diciamo girando girando così e fa linea fuori gli acini e la parte liquida va sotto e poi c'è un'altra cocchia io non so se si vede adesso via vicino sotto che spinge il la parte liquida da questo da questa uscita qua e poi ci va a cui attacchiamo questo tubo qui che mettiamo dentro il tino e questo qua diciamo adesso questo qua quello che abbiamo lavato questa è quella parte è la parte liquida mentre gli sgraspi i raspi sono tipo questi questo qua lo scheletro diciamo che esce nella parte posteriore e questo qua è quello che viene buttato nel tino adesso andiamo dentro e facciamo vedere il tino con con risultato del nostro lavoro di quest'anno allora questa quella tina che vi ho fatto vedere prima questo quel livello di quest'anno è quasi piena e questo è il mosto adesso metteremo su una tovaglia in modo che non ci vadano i moscerini mia amma per tradizione ci mette appena di sale appena di zucchero ma per me si potrebbe evitare però lei ce l'ha sempre messi le mette poi ci diamo lo muoviamo un po con un bastone di legno per mescolarlo appena poi adesso lo copriamo ci mettiamo sopra una tovaglia e starà qui tra una settimana chiaramente si dividerà la parte solida e la parte liquida la parte liquida scenderà giù e la tireremo fuori da questo da questo rubinetto qui questo qua a livello di oggi poi si alzerà e farà diciamo come lo chiamiamo il cappello sopra in modo che si divide e poi la parte liquida verrà tolta e la parte e l'ultima parte magari le torchiamo appena per fare un po di aceto noi facciamo l'aceto forte di vino lo facciamo con diciamo la torchiatura il vino meno di valore che noi il vino buono lo beviamo mentre le torchiature la torchiatura la utilizziamo per fare l'aceto di vino ok e questo è quanto questo è quello che abbiamo fatto noi in questi giorni che è stata la vendemmia e la pigiatura la vendemmia trasportare le casette qui dalla cantina e la pigiatura ci ha aiutato anche mia amma e mio fratello che è solo una parte di tutto un lavoro perché la potatura la legatura andare a prendere i salici per legarli poi la potatura verde l'annaffiatura dopo trovate tutti i video sul canale di tutti i vari procedimenti li metteremo fare il vino non è semplice ci vuole del tempo però pian piano si ottengono dei risultati nient'altro io e la veronica vi salutiamo vi ringraziamo e se avete qualcosa scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di telegan dove siamo anch'io la veronica o in alternativa se passate da palma e volete venire a bere un bicchiere di vino con una pasta al pomodoro che avete trovato il video della salsa o condita con un po' un po' di insalata nel nostro otto condita con un po' di aceto forte siamo qui io e la veronica vi salutiamo ciao ciao